Ciao, mi chiamo Aurelio Porfiri, sono un compostero, conduttore, scrittore e educatore dell'Italia, vivendo da Roma e Hong Kong. Questo è il mio canale tutorial, per favore abbiatevi. Io posto video sulle tecniche di chorale e sulle musica di chorale che magari non vedete la sua esistenza. Quindi, ti aspettavo qui, stai attento.